Entrò nella mia vita nel febbraio del 1932, per non uscirne più. Nella mia classe c'erano parecchi von, gli Hohenfels facevano parte della nostra storia. Non ricordo esattamente quando decisi che Conradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma lo sarebbe diventato. Ho citato un po' prima di scrivere che avrei dato volentieri la vita per un amico. Dall'ora è passato più di un quarto di secolo. Quelle pagine stampate erano emerse dall'inferno del mio passato antidiluviano, perturbare la pace del mio spirito, riesumando ciò che con tanto sforzo avevo cercato di dimenticare. Volevo veramente sapere. Forse un giorno i nostri cammini si incroceranno di nuovo. T'ho affezionato, Conradin von Hohenfels. Conradin von Hohenfels.